Con i prezzi record raggiunti in questi giorni, 7,44 euro al chilo, peso vivo alle aste, l'agnello di Sardegna IGP attraverso il suo consorzio di tutela è volato a Barcellona in Spagna alla Fiera Biennale Alimentaria 2022, dove è presente da ieri 4 aprile e lo sarà fino a giovedì 7 tra i padiglioni del grande evento fieristico nel settore intercarn specifico per le carni e le sue filiere. La Spagna, dove la Sardegna esporta ogni anno 300.000 agnelli marchiati IGP, è considerata la porta per i mercati in espansione per la carne ovina del Nord Africa e dell'Arabia, a cui l'agnello di Sardegna IGP approderebbe grazie alle certificazioni Alal. E questa fiera è un'ottima vetrina per allargare ancora il mercato e far conoscere e far approdare il marchio a catene di supermercati, distributori e GDO con il meglio di uno dei prodotti di punta dell'economia agroalimentare sarda, che guarda al presente adattandosi a quanto chiede il mercato. Dopo due anni di pandemia finalmente si può fare promozione in presenza. Abbiamo scelto di ricominciare con la Spagna, il principale mercato per le nostre carni, commenta Alessandro Mazzetti, direttore del Contas. Ogni anno esportiamo il 25% dei nostri agnelli nel territorio iberico, con fatturato che supera i 15 milioni di euro. Siamo qui a Barcellona per consolidare il nostro export, ma soprattutto per valorizzare il nostro prodotto e trovare nuovi importatori.